E sarà veramente un esperimento di alta magia chirurgica e a questo punto vorrei chiedere a mio figlio, sapete che viene a aiutarmi di tanto, è un studente universitario, per cortesia Stefano, vieni qua, grazie. Alta di scura il camice da chirurgo, piano così, bene, camice da chirurgo, bene, grazie, vuoi chiudere questa parte Stefano, bene, attenzione, alta chirurgia Gerry, alta chirurgia. Sì, sì, quello vero, quello vero, signori, seguitici per cortesia, anche voi nelle vostre case, metaforicamente per mano, vi prendo ancora una volta, vi porto nel mondo dell'illusione, attenzione. Ecco a voi, Silva! Prego. Vuoi stenderti? Assuni un atteggiamento ipotonico, rilassato, non devi assolutamente pensare a niente, va bene? Attenzione. Prego. No, il sullettico nostro. Sono infortunato, faccio il sullettico. No, no, no. Anche qui da linea casa, va bene. Attenzione. una lama d'acciaio affinché il corpo di Gabriella sia naturalmente sollevato. il mio bisturi. Cosa è il bisturi? Scusa, eh? No, questo che cos'è? No, ma questo non me l'avevi detto che c'era, scusa, eh? No, scusa. No, 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 scusa, no, scusa, no, scusa, no. Aiuto! Aiuto Ma io vorrei capire Qui ci deve essere un ossicino Un ossicino che non va Aspetta un pochino E vettici un ossicino Non c'entra Non c'entra, scusa Una vertebra, forse una vertebra Ho paura Aiuto il sullettico di nuovo Volete vedere vicino? No, no, scomma Anche il sullettico Andate per lui a casa? No, per favore no Alarma Un bel applauso Un applauso Un applauso E naturalmente Ricordatevi Domenica prossima Sempre alle 16.30 Sarò con voi